nelle scorse ore. Capitolo stati generali, Maraglio, servivano proprio? Serviva proprio organizzare questa dieci giorni? Ma credo di sì, perché noi stiamo affrontando una fase nuova, che è quella della ripartenza, che per molti aspetti è molto più complicata rispetto alla fase dell'emergenza che abbiamo vissuto fino ad oggi. Noi abbiamo giocato in dichesa per isolare il virus negli scorsi mesi e nelle scorse settimane. Oggi c'è da affrontare una fase nuova che ci deve vedere all'attacco, un po' direi all'amurigno. Dobbiamo decidere come affrontare la fase di attacco per rimettere in moto la nostra economia e per ridare all'Italia un'adeguata risposta rispetto alle imprese che sono in sofferenza, alle famiglie che hanno bisogno di risposte e che sono in difficoltà. Quindi concentrarsi su una serie di giorni, forse dieci, per ragionare e cominciare ad avviare un dibattito ed un confronto con le parti sociali, con le parti datoriali, col mondo delle imprese, produttivo, servirà senz'altro a marcare questo cambio di passo che il governo deve mettere in campo e di cui sente tutto il Paese il bisogno. A partire dalle piccole e medie imprese, che rappresentano il 90% del nostro sistema industriale italiano, che ancora attendono la cassa integrazione di marzo e quindi su questo sicuramente dovremo misurare una capacità attraverso anche una sburocratizzazione di mettere in campo delle misure idonee. Noi dobbiamo passare insomma da una stagione dell'assistenzialismo che è stato giusto, opportuno per dare risposte alle famiglie e alle imprese, ad un sistema invece espansivo per mettere in moto un'economia più strutturata, più decisa, più seria in Italia. Professor Ronida, io chiedo ancora una volta aiuto a lei.